Attento! Sotto prezzo! Scopri da Riccardo Corredi tutta la collezione di materassi sotto prezzo! E per i più veloci, materasso matrimoniale in memoria a soli 199 euro! I nostri materassi, prodotti in Italia, sono in pronta consegna! Sì, ma fino a esaurimento scorte e sui prodotti disponibili! Ti aspettiamo nel negozio Riccardo Corredi più vicino a te! Corri! Metti in moto e prima passa da Riccardo! Perché di me ti puoi fidare! Riccardo! Riccardo! E' arrivato il sottoprezzo! A partire da 199 euro, materasso matrimoniale italiano! E avete una gamma scelta di nuovi materassi, pagamenti lateali, gli interessi li paghiamo noi! Pensate, abbiamo anche una linea medica! Per gli aventi diritto c'è l'IVA al 4% e la detrazione del 19% come le medicine! Poi se avete visto delle altre offerte che magari vedete un prezzo civetta, vi viene un collaboratore a casa? Bene, prima passate da Riccardo perché da me da 40 anni, lo ripeto per l'ennesima volta, vi dovete fidare e vi fidate da 40 anni grazie a voi che noi siamo qua! Abbiamo tutti questi punti vendita dove potete andare a trovare sia elettrico il contenitore, sia le poltrone! Le poltrone sono tutte made in Italy, con l'alzata, avete due anni di garanzia su tutte le parti elettriche, per cui non è soltanto vendere, è l'assistenza che conta! E Riccardo Corredi la fa! Riccardo! Per essere più vicini a voi con tanti prodotti differenti, da ortopedici a ergonomici, in tutte le misure, fino alla linea dispositivi medici, dove abbiamo fatto tanta ricerca, che ti stupirà! Noi abbiamo il sistema antirusso, ma per questo vieni in negozio a scoprirlo! Del resto il babbo è l'unico a metterci la faccia, da oltre 40 anni, ma di chi ti puoi fidare di più? I nostri letti sono completamente artigianali, per questo ogni letto è un pezzo unico! Spesso vengono clienti con un'idea poco chiara del letto che vogliono, da noi capiscono che il mondo del letto è molto vario e personalizzabile per ogni esigenza! Per esempio, il nostro letto contenitore è fatto con un sistema più robusto degli altri in commercio, vi invito a venire a vederlo per capire cosa intendo! Possiamo trovare le reti motorizzate in versione singola, matrimoniale, ma anche due singole accoppiate per avere la massima indipendenza dalla persona che ci sta accanto, stando anche più rialzati mentre la persona vicina sta dormendo! Con i nostri consigli potrete migliorare il problema della circolazione sanguigna e non solo! Venite, vi mostreremo anche il nostro sistema antirusso! Da oltre 40 anni cerchiamo non solo di vendere materassi e letti, ma di consigliarvi il modo migliore per farvi riposare, così che sarete voi a consigliare noi ai vostri cari e amici! Vorrei ricordare ancora il grande sottoprezzo! Il sottoprezzo a 199 euro il materasso matrimoniale, ma è tutto italiano! Noi articoli di importazione non li lavoriamo per una nostra scelta commerciale, perché il guadagno siete voi non è a vendere un materasso! Il mio cliente che si serve da 20, 30, 40 anni, questa è la mia grande soddisfazione! Una visita da Riccardo prima di andare a fare un acquisto, usa la testa e non le gambe, perché Riccardo Corredi da 40 anni sono qua e grazie a voi vi ho sempre tutelato! Metti in moto e prima passa da Riccardo! Perché di me ti puoi fidare!